Matteo Chinellato è l'obiettivo numero uno dell'attacco del Teramo, ma non sarà affatto facile arrivare al centroavanti Scuola Milan, che si è appena liberato dal Como dopo la mancata affiliazione dell'Ariane alla FIGC. Per la punta trevigiana quest'anno 36 presenze e 11 gol, un bottino che una volta decaduto il suo contratto ha fatto drizzare le antenne alla società biancorossa, che seppur in un clima di fortissima austerity dal punto di vista dei conti, un colpo importante davanti lo farà. Resta da capire se riuscirà a battere sul tempo tutti e assicurarsi proprio Chinellato o dovrà ripiegare su qualcun altro. Anche perché lì davanti la lista dei partenti è lunga, Sanzovini è rientrato ieri dalle vacanze e parlerà presto con la dirigenza per risolvere una situazione che rischia di danneggiare entrambi. Il ragazzo l'anno scorso ha accettato Teramo anche facendo una scelta di vita. Adesso valuterà bene la situazione, ma per il Teramo non rientra più nei piani. Esattamente come Lorenzo Tempesti e Riccardo Barbuti. I due arrivati a gennaio non hanno dato quell'apporto che ci si aspettava e sono sulla lista dei partenti. Il problema è che hanno tutti un contratto anche per la prossima stagione. In un reparto da rifare completamente anche Mirko Petrella in uscita, anche perché quello che continua a preoccupare il diavolo sono i contrattempi fisici che a lui lo perseguitano da tanto tempo. Dunque reparto avanzato che non dovrebbe vedere alcun supersite, ma che potrebbe presto abbracciare Simone Mazzocchi dall'Atalanta. Con i Bergamaschi sembra tutto fatto anche per il discorso che riguarderà Alimi. In mediana ha confermato anche Ilari, mentre Spighi e Carraro sono con la valigia in mano e non fanno parte del progetto tecnico di Antonino Asta. L'altra conferma è quella di Stefano Amadio, mentre per Alessandro Di Paolo Antonio il discorso riguarda la possibilità che arrivi un'offerta che accontente il ragazzo per fargli fare quel salto di qualità che meriterebbe. Il numero 7 è uno dei confermatissimi, ma è chiaro che se arrivasse una telefonata per una categoria più in alto, il Teramo lo lascerebbe partire, seppur a malincuore. Intanto da ieri Alessio Milille, un nuovo giocatore del Diavolo. Dopo una stagione a San Nicolò, stavolta a Via Pescara il difensore si accase in bianco-rosso. Sarà l'alternativa a uno dei due centrali di difesa. Nei prossimi giorni invece saranno definiti gli altri acquisti di mercato, prima della partenza per il ritiro di Alfedena, che scatta sabato prossimo.